E' Agrigentino il primo paziente siciliano, terzo caso in Italia, trattato con editing genetico per la correzione della talassemia. Il risultato è frutto delle cure prestate negli anni presso l'unità operativa di talassemia di Sciacca, dell'ASP di Agrigento e delle tecniche avveniristiche perfezionate all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Quella applicata è una tecnica innovativa ad altissima precisione, in grado di correggere in laboratorio le cellule prelevate dalla persona malata per poi essere nuovamente infuse nell'organismo dove si riproducono con successo al posto di quelle difettose. Si tratta di un giovane adulto agrigentino che da circa 4 mesi, a seguito dell'ottimo esito dell'infusione di cellule geneticamente modificate, non ha più esigenze di sottoporsi alle cliniche trasfusioni di sangue che finora la cronicità della malattia talassemica gli aveva imposto. Il primo passaggio concluso a Sciacca, seguito dalla dottoressa Caloggiara Gerardi, responsabile del centro di diagnosi e cura delle talassemie e degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, ha fatto da condizione essenziale per il trattamento innovativo perfezionato al Bambino Gesù. Il paziente agrigentino è stato seguito presso la struttura romana dall'equip del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica, diretto dal professor Franco Locatelli. Le attività sono state coordinate dal dottor Mattia Algeri. L'editing del genoma, spiegano Locatelli e Algeri, rappresenta potenzialmente una rilevante opzione curativa per i pazienti con emoglobinopatie, ovvero talassemia e anemia falciforme, accompagnata da un profilo di rischio estremamente ridotto. Certamente i risultati andranno verificati e confermati nel tempo. Normalmente questi pazienti trovano nel trapianto di midollo la loro principale soluzione terapeutica. Il vantaggio dell'editing del genoma è quello di poter essere applicato anche a chi non ha un donatore di midollo osseo o non può ricevere un trapianto a causa dell'età. Confidiamo, concludono, che in futuro l'editing possa essere utilizzato anche per il trattamento di altre malattie genetiche. La notizia dell'ottimo esito del percorso di cura e trattamento è stata accolta con viva soddisfazione dal commissario straordinario dell'Aspe di Agrigento, Mario Zappia. La rilevanza sotto il profilo sociale e sanitario del risultato raggiunto, ha dichiarato Zappia, ha il sapore della conquista per i tanti pazienti affetti da patologie genetiche croniche. Siamo felici per il nostro giovane conterraneo, che da oggi potrà beneficiare di un significativo miglioramento della qualità della vita e al coltempo, conclude il manager dell'Aspe, ci riempie di orgoglio aver costruito le basi di un traguardo così rilevante e promettente, da estendere a tutti i pazienti con emoglobanopatie elegibili.